Amiche e amici della web tv di quotidiano.net, benvenuti alla diciottesima puntata della musica che gira intorno. In questa occasione torno a quella che è la mia musica preferita, cioè che viene da un paese che è particolarmente poetico, musicale, sentimentale ed è il Portogallo. Anche perché da quel paese non vengono soltanto artisti che si abbarbecano alla loro musica popolare, cioè il fado, ma molti che dal fado vanno verso una world music che è ormai apprezzata internazionalmente. Di fado vero ne parleremo poi prossimamente perché ci sono state delle grosse novità in occasione anche del decennale, delle festeggiamenti per il decennale della scomparsa di Amalia Rodriguez. Ma oggi parliamo di artisti che stanno a metà fra la tradizione e la ricerca. E sono artisti che vengono dalla parte popolare del Portogallo, dalla parte popolare di Lisbona e sviluppano il loro interesse per la musica che viene da tutto il mondo. Come fa anche Marisa che nel suo ultimo album Terra, di cui abbiamo già parlato in questa rubrica, è andata a scovare le vicinanze fra la musica portoghese, quella brasiliana, quella messicana e quella del Medio Oriente. Così noi oggi vediamo che un artista come Dulce Pontes, che è forse la più rappresentativa della sua categoria in Portogallo, ma è conosciutissima anche in Italia, ha voluto realizzare per festeggiare vent'anni ormai di carriera, una sua seconda raccolta, ancora un CD doppio che si chiama Momentos, che non raggiunge il livello del precedente, o Cora Sound Entra e Sportas, al cui io poi sono particolarmente legato, ma ci presenta ugualmente una serie di aggiornamenti e di reinterpretazioni di classici fadisti e popolari portoghesi, ma anche di musica che proveniente da altri paesi. E poi con assolute concertazioni e arrangiamenti particolari. Uno fra tutti, quello della canzone più struggente del fado classico, che si chiama Lagrima, scritta da Amalia Rodriguez con la musica di Carlos Gonsalves, che Dulce in questo album ripropone con un'orchestra di buzuchi, e quindi una cosa che mischia la tradizione e il concetto della musica popolare del Portogallo con quello greco. Ma non c'è solo quello, c'è anche una straordinaria interpretazione di Morricone, tratta dall'album Focus del 2003, dove il musicista premio Oscar ha voluto Dulce Fontes per interpretare tutti i suoi capolavori, e in questo CD Momentos Dulce omaggia il maestro italiano con Amor & Portugal, Your Love. In questo disco, come anche in uno di cui parleremo più tardi, un protagonista importante, è un violencellista italiano che si chiama Davide Zaccaria, che da anni vive in Portogallo e che partecipa ai progetti di molti artisti. Un disco doppio per Dulce Fontes, aspettandola di nuovo in Italia per il prossimo anno, dove sicuramente ha molti fan che vogliono di nuovo sentirla dal vivo, dopo i successi del passato. Un gruppo che dal fado di Lisbona ha intrapreso già da tempo un suo percorso verso la musica internazionale, la musica pop internazionale, sono i Madre Deus. I Madre Deus nel corso degli anni ormai sono più di 20 di attività, hanno cambiato parecchia pelle, sono diversi da quelli che abbiamo cominciato ad apprezzare e, in modo particolare in Italia, dal 1995, che fu l'anno di Ainda, il loro CD, che era la colonna sonora del film Leads One Story di Wim Wenders. Il periodo migliore dei Madre Deus, secondo me, rimane quello, cioè quello dagli esordi di Osdia di Madre Deus a Ainda e a qualche album successivo, Falouans do Tejo, quello del 2005, è un album molto interessante, molto importante. In quest'arco di tempo la voce dei Madre Deus era quella di Teresa Salgueiro, una voce inimitabile e che con la formazione di Pedro Ayres Magagliaes stava veramente come la cigliagina sulla torta. Teresa Salgueiro, da dopo Falouans do Tejo, non è più con i Madre Deus, fa un suo percorso diverso e, secondo me, i Madre Deus ne hanno perso molto. Ora si affidano a tre cantanti, il gruppo si chiama A Banda Cosmica, sono usciti due album, Metafonia e Anova Aurora. Gli album non sono assolutamente brutti, tutt'altro, però sono un pochino ripetitivi. Carlos Maria Trindade, che ora è il leader insieme a Magagliaes del gruppo, ha una sua sonorità molto particolare, l'uso delle tastiere è diventato emblematico ormai di questo gruppo ed ha un pochino, ancora di più, troppo internazionalizzato la musica che fanno, un pochino troppo su standard di routine del pop internazionale. Sono comunque ancora un gruppo che ha molti seguaci, che ha un grosso successo anche discografico e quindi meritano comunque sempre un'attenzione. Come merita attenzione nella sua attività esclusiva, Teresa Salgueiro, che dei Madre Deus era stata la cantante, ha fatto uscire tre album, Solistio, Brigado, Vosse e Eu e La Serena. Il primo è un suo mix di canzoni portoghesi, Vosse e Eu è un omaggio alla Bossa Nova, La Serena è un omaggio alla musica etica internazionale. Molto, molto brava Teresa, che abbiamo visto anche a Sanremo nel 2007 cantare con gli Stadio, che tornerà in Italia, che ha un suo pubblico che la predilige e che spesso torna volentieri anche al Fado, come ha dimostrato in un disco del 2000 con Antonio Sciaigno. Altra artista che merita la nostra più completa attenzione è Mafalda Arnaut. Mafalda Arnaut, di cui in questa rubrica avevo già parlato, annunciando l'album che in questi giorni esce finalmente anche in Italia, che si chiama Flor Gifado. Esce in una versione con DVD, nel quale ci sono alcuni dei brani che fanno parte del CD suonati dal vivo. Mafalda Arnaut ha una voce particolare, non è perfetta in alcuni suoi momenti, ma sicuramente è un personaggio molto interessante ed importante. Vi do subito alcune date, che tra il 19 e il 21 gennaio prossimo sarà a Milano, a Sant'Agata Bolognese e a Monfalcone, con tre concerti che sono da seguire. Anche lei, che pur frequenta il Fado classico e anche in questo album interpreta, è un pezzo base della tradizione che può roslava non rio, però ha dichiarato più volte che vuole aggiornare quelli che sono gli stili del Fado, infatti scrive delle proprie canzoni, propone della propria musica composta o da lei o dai musicisti che l'accompagnano come Ramon Maschio in questo particolarmente. Questo album è assai interessante, non è Fado classico, è anche quello di Mafalda, un tentativo di uscire da vecchi canoni, senza rinnegare la tradizione d'origine, che è quella e si riconosce comunque per l'uso degli strumenti, ma sicuramente di guardare a un pubblico internazionale, ha un rapporto anche del Fado con le altre musiche popolari, il flamenco spagnolo, il tango argentino, la musica popolare del sud d'Italia che è molto apprezzata e amata, quella napoletana, siciliana e pugliese, dai nostri amici lusitani. Mafalda Arnaut quindi sarà in Italia in questo periodo per lanciare il suo album, Flor de Fado, la cosa che va sottolineata ancora di più è la presenza, non solo anche in questo CD di Davide Zaccaria, che abbiamo detto è italiano, milanese, vive in Portogallo e collabora con i maggiori artisti di quel paese, ma anche con quello che è il nome nuovo del virtuosismo della gitarra portoghese, che si chiama Angel Freire, un ventenne che sta scalando il gradimento di tutti i cantanti dai più anziani ai più giovani di Lisbona ed è un virtuoso allievo di Custodio Castello che sicuramente si farà sentire anche come solista, come fanno un po' non solo adesso Custodio Castello, ma per esempio Riccardo Rocia, un nome sicuramente da seguire. Quindi ricordo Dulce Pontes Momentos, ricordo I Madre Deus e la Banda Cosmica a Nova Aurora, ricordo Mafalda Arnaut Flor de Fado, per chi li conosce non sono una scoperta, per chi non ha grande dimestichezza con la musica portoghese si accorgerà del suo grandissimo livello. Alla prossima! Grazie a tutti!